La legge e la giustizia sono sorelle e questi due strumenti che ha l'uomo, quello della giustizia e quello della legge, sono funzionali a un ordine, a un ordine della società che deve andare verso la pace, verso la costruzione della pace. Nel libro per la prima volta si mette in relazione la vita di Federico II, re di Sicilia, re di Gerusalemme, sacro romano imperatore, con la storia di quattro su otto crociate svolte nel 1200. Nesce un'immagine di una società medievale multiculturale. Etnie, civiltà, ma anche figure diverse, quali mercanti, magistri, mullah, sultani, emiri, principi e sovrani, nonché anche i papi del XIII secolo. Si affronta questo tema in uno spazio aero-mediterraneo che mette insieme in correlazione l'Asia, l'Africa e l'Europa e mette in correlazione anche due civiltà. La storia multiculturale, plurireligiosa è di un incontro tra cristianità e Islam che travalica la concessione retorica della guerra santa. In un momento in cui la retorica della guerra santa trova il suo apice, ma poi viene sconfessata dai continui accordi tra cristiani e musulmani in tutto il bacino del Mediterraneo. Può essere utile agli studiosi, gli studiosi di economia, di politica, di ideologia, ma anche ai comuni lettori che possono trovare spunto proprio da questo incontro tra cristianità e Islam, per la società di oggi, per la costruzione di un mondo di pace e di giustizia. Grazie a tutti.